Musica Questa settimana, curiosità e tradizione, è a Monsan Polo e Colli del Tronto. Con il sindaco Tacconi Nazareno oggi vogliamo parlarvi di Monsan Polo del Tronto, un piccolo paese della provincia di Ascoli Piceno. Sindaco, quali sono le caratteristiche? Beh, Monsan Polo è un paese ormai di 5.000 abitanti. Se pensi che nel 1980 faceva 2.800 abitanti, adesso siamo a quasi 5.000, siamo cresciuti di molto. Siamo cresciuti perché Monsan Polo si è sviluppato molto dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura. Quindi questi tre elementi economici hanno portato sul posto insediamenti di industrie, di attività produttive, per cui la gente è venuta ad abitare nel nostro comune, trovando lavoro e anche residenze a poco costo. Sicuramente un'ottima posizione geografica. Un'ottima posizione, noi se lei si affaccia qui alla terrazza del comune, vede che dai Sibillini fino al Granzasse al mare, vede tutto un manorama meraviglioso e poi anche il centro storico ha delle cose belle da vedere e da ammirare. Infatti Sindaco, parliamo un po' anche dei siti sotto l'aspetto culturale che può offrire il paese. Sì, noi abbiamo il museo civico, il museo archeologico, abbiamo i percorsi ipogei, abbiamo i dipinti ritrovati, la biblioteca di anatomistica Sant'Alesi, un'opera di grandissimo valore storico e culturale, comprende il volume di medicina, architettura, archeologia e metodi studiosi. Poi abbiamo il famoso ritrovo del 2003 delle mummie. Questo a seguito di un sopravluogo archeologico, nella chiesa, nella cripta della chiesa Maria Santissima Assunta di Monzambolo, furono ritrovate queste 20 mummie, le quali suscitarono un enorme interesse, sia archeologico, ma sia anche culturale e turistico. Noi le abbiamo fatte esaminare, queste mummie, dalla Università di Camerino e hanno certificato che questa mummificazione è avvenuta in modo naturale. Noi siamo quasi pronti per allestire il museo e infatti a metà di giugno vi inviteremo, inaugureremo questa mostra e speriamo che sia meta di studiosi, di curiosi e di gente che interessa visitare le mummie. Cioè io vorrei creare, come dico altre volte, un percorso storico-turistico nel capoluogo. Come ho detto prima, i musei, questa delle mummie, la biblioteca, eccetera, in modo da invitare le scuole e a far vedere queste cose che noi abbiamo che fino ad oggi sono state un po' nascoste, ma che in realtà è un prezioso strumento di cultura e di turismo per l'economia locale. Sicuramente, Sindaco, i tanti nostri telespettatori risponderanno a questo invito. Grazie. Sicuramente, perché già abbiamo richiesto, sono avuto gente dall'Inghilterra addirittura che hanno saputo di questa cosa. hanno l'importanza, le mummie di Ferrendino, eccetera, cioè di Pesaro, ma parla sia. Quindi sicuramente per noi sarà un motivo di vanto e di soddisfazione perché grazie a questo intervento economico della comunità economica europea ci permette di poterli mettere a disposizione del pubblico e di rivedere la nostra storia passata. Grazie. Prego. Nella frazione Stella di Monsampolo del Tronto visitiamo il forno La Bottega del Pane. Sono in compagnia di Giuseppe che da vent'anni si occupa di questa attività. Sono tanti, Giuseppe, i tipi di pane che producete qui. È un pane un po' particolare? Circa 50 tipi di pane. Ognuno con le sue caratteristiche. Chiamiamo anche tanti panni saludistici perché specifici per alcuni problemi come intolleranze e cose varie. Un sistema tradizionale che utilizza il lievito madre, si usa a dire così? Sì, lo utilizziamo per il 90% della nostra produzione di lievito madre sia nelle pizze, nelle focacce che nella produzione di pani. Questo è il lievito madre che noi usiamo per produrre i nostri tipi di pane. Ogni giorno viene rinfrescato come si usa a lavorare il lievito madre e ha bisogno di mille accortezze. Noi per scherzare chiamiamo il nostro bambino perché questo va accudito, lavato, sterilizzato e per ridere lo chiamiamo il bambino. Parlavamo di pani salutistici. Magari soffermiamoci un po' su questi tipi di pane anche proprio per informare i nostri telespettatori. Abbiamo dei pani che contengono Omega 3 che benissimo sostituisce il fabbisogno di Omega 3 dei semi ricercati particolari che hanno gli Omega 3 come l'acido folico per le donne in gravidanza ci sono dei pani che con 100 grammi al giorno sostituisce il fabbisogno giornaliero di una donna in gravidanza quindi potrebbe evitare benissimo di prendere le pastiglie e poi abbiamo pane di segale, di farro molti grani, molti cereali dressini di tantissimi tipi al gusto pizza, cipolla, capperi, olive e così via diciamo. Ne sono talmente tanti che ogni giorno facciamo delle cose diverse per non annoniare i nostri clienti. Ma sicuramente la bottega del pane è anche un luogo dove si possono sicuramente radunare i vari golosi perché ci sono anche tantissimi dolci da assaggiare. Facciamo anche tantissimi dolci dolci da forno naturalmente soprattutto anche lì un sistema abbastanza tradizionale senza uso di coloranti artificiali qualche colorante che abbiamo che usiamo per le pesche è assolutamente naturale e quindi cerchiamo tutto di fare molto naturalmente. Per parlarvi di Colli del Tronto incontriamo il sindaco Tommaso Cavezzi Salve sindaco Buongiorno e benvenuti a voi Sindaco cominciamo subito col dire le caratteristiche di questo piccolo paese Ah certamente è un paese di basse e basse dimensioni demografiche che è sicuramente influenzato da quella che è la vita della vallata che nel suo complesso ha poi queste caratteristiche unitarie di cui Colli è parte integrante è un paese che è nato sicuramente da tutta l'attività agricola che si svolgeva qui fino al secondo dopoguerra poi è cambiato tutto ed è stata una storia diversa oggi stiamo un po' ritornando a quello che era questa immagine del paese più legata alle tradizioni al mondo agricolo vista la crisi che in qualche modo in maniera pesante ha colpito un po' tutto il territorio della vallata nessuno escluso ecco Una vocazione quindi agricola che potrebbe essere una grande risorsa soprattutto per i giovani che cercano di entrare nel mondo del lavoro Assolutamente sì perché questo lo testimonia anche il fatto che è lungo la valle dove ci sono diciamo i terreni più vocati per l'agricoltura di fatto avendoli salvati a suo tempo dalla industrializzazione feroce o indiscriminata oggi ci sono delle buone attività vivaistiche soprattutto legate poi al commercio grossista dei prodotti che vanno a finire soprattutto nella zona di Grosseto sono delle attività che insomma al momento reggono anche la crisi cosa che non è altrettanto vera per quanto riguarda l'industria certo abbiamo bisogno anche di altro perché la crisi in questo momento è piuttosto veramente profonda però certo è un indirizzo preciso anche di aiuto per i nostri giovani che a questa cosa possono in qualche modo aspirare come una prospettiva di futuro insomma un paese che può offrire ai tanti visitatori che vengono qui anche dei bei siti importanti da visitare è la nostra storia un po' quindi è legata sempre a queste cose che dicevo ma il centro storico è legato a una grande famiglia che in passato aveva qui tutte le sue attività agricole i panichi e quindi la chiesa soprattutto di Santa Felicita dove si custodiscono delle pale d'altare di un pittore che ha avuto risonanza nell'800 morto nel 1885 Ferdinando Cicconi e ci sono poi dei piccoli oratori locali che sempre collegati alla tradizione alla tradizione diciamo più verace delle nostre zone che era quella tradizione contadina adesso la prima domenica di marzo c'è poi una fiera che il titolo è molto esemplificativo piante e fiori, i vimini e i bambù quindi oltre diciamo quello che è il simbolo della ripresa della natura con le piante e i fiori c'è questo discorso di utilizzo dei prodotti naturali come i vimini e i bambù per la produzione di oggetti artigianali oggetti diciamo di uso comune nell'ambito della casa quindi sedie, tavoli e così via oggi una volta si producevano nella nostra zona oggi naturalmente sono più di importazione però sono anche questi un indirizzo che cerchiamo di dare per un uso sostenibile di quella che è la nostra economia e del nostro territorio noi la ringraziamo per il tempo che ci ha concesso e invitiamo tutti i nostri telespettatori a venire magari alla fiera comunque a visitare Colli del Tronto grazie saranno i benvenuti arrivederci e grazie a voi il territorio di Colli del Tronto è particolarmente evocato all'agricoltura siamo nell'azienda agricola Vallorani e Marconi sono in compagnia di Elisa e Silvio che rappresentano la famiglia allora Elisa parliamo subito come è iniziata la storia di questa azienda agricola la storia della nostra azienda agricola inizia con l'attività di nostro nonno Silvio Vallorani che era mezzatro di un proprietario terriero di Colli del Tronto ma stanco di lavorare per altri decide di mettersi in proprio acquistare alcuni terreni l'attività di nostro nonno è stata poi continuata dai suoi figli Gino e Felice cioè nostro zio, nostro padre attraverso la produzione di uva e vino prima e poi attraverso varie tappe si è arrivati a quella che è l'azienda attuale di oggi con la produzione quindi di frutta e olio e parliamo proprio di frutta con Silvio qual è la specialità di questa azienda? la specialità dell'azienda sono le ciliegie ne abbiamo di tutte le varietà di veramente buonissime e molto ricercate anche nelle nostre zone poi spaziamo anche su pesca, albicocche, susine insomma maturazione diciamo per tutto il periodo estivo e anche autunnale con le mele fino all'autunno inoltrato poi c'è l'oliveto l'oliveto è molto importante con una serie di varietà miscelate in modo idoneo per avere oli particolarmente interessanti e assieme a una molitura completamente fatta a freddo e tramite solo procedenti meccanici riusciamo a ottenere i nostri oli in particolare tre ne produciamo che sono di ottima qualità abbiamo il Solagna che è prevalenza di Sargano e Carboncella il Santa Cristina che è prevalenza di Frantoio e Leccino e un Tenera Scolana che è un monoparetale di questi oli noi facciamo anche qualche gara regionale anche con ottimi piazzamenti e adesso mia sorella vi racconterà qualche proprietà degli oli allora Elisa sì, le proprietà terapeutiche dell'olio sono universalmente riconosciute ad esempio i polifenoli e la vitamina E svolgono un'azione antiossidante che rallenta l'invecchiamento delle cellule e quindi diminuisce il rischio dei tumori e inoltre diminuisce la pressione arteriosa quindi il rischio di infarto Elisa, quali sono le curiosità che volevi dirci sulle ciliegie? sì, allora gli antichi greci decantavano le ciliegie come il frutto del paradiso questo perché sono un frutto gustosissimo al quale non si può resistere se lo dessimo neanche il letto una ciliegia tira l'altra proprio perché è impossibile resistere alla tentazione Silvio, parliamo invece adesso dell'agriturismo che è venuto ad arricchire recentemente già l'azienda agricola esatto l'anno scorso siamo riusciti a portare a termine questo progetto pensato dalla nostra famiglia già da tempo e abbiamo costruito l'agriturismo siamo riusciti a ottenere la licenza e possiamo ospitare su due stanze matrimoniali un appartamentino completo con cucina, tutti i vari comfort insomma bagni in camera condizionatori wifi per la connessione a internet e poi abbiamo il salone salone che possiamo dare in gestione per feste feste di compleanno capodanni carnevale ma anche ricevimenti presentazioni non so abbiamo avuto la presentazione di un libro della maestralità Gregori e poi sì insomma tante feste vengono organizzate ad esempio una per tutte l'Accademia del Divin Porcello che si riunisce annualmente nei nostri spazi per organizzare quello del Gran Gala del Salame un bell'evento goliardico in cui insomma molti amici si riuniscono per festeggiare tutti assieme allora possiamo invitare anche i nostri telespettatori a venire qui proprio in quel periodo così potranno diciamo avere la calorosa ospitalità volentieri anche assaggiare i nostri oli perché no sicuramente allora vi salutiamo Elisa e Silvio buon lavoro buona giornata grazie a voi da Colli del Tronto vi salutiamo e diamo la linea a David con music